Ok salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi faccio vedere la mia postazione Però non è proprio da gaming È normale, c'è la tastiera normale qua Che la rimanga così da quando abbiamo comprato il computer Poi sono le casse Poi qua c'è il monitor Ok poi qua abbiamo il computer, vedete? Oppure questo qua sembra normale ma invece l'ho modificato Ci sono dei pezzi modificati dentro Aspetta che ora vi faccio aprire Allora marca Lenovo Poi qua abbiamo degli hard disk Pieno di polvere qua però va bene Poi qua abbiamo un connettore USB Qua abbiamo le cose collegate con USB E ora lo apriremo Ok ora dobbiamo rimuovere questo pannello Tanto si può togliere, rimuovere e rimettere Vedete qua c'è per far passare l'aria Qua c'è il cd si apre Ecco qua Ora chiudiamo Ok ecco qua l'abbiamo rimosso E questo qua è il pannello Dietro è così Ecco rimettiamolo qua E qua abbiamo tutti i componenti smontabili e rimontabili Qua abbiamo l'alimentatore Corsair VS550 Anche questo è stato modificato Poi è stata modificata la scheda video Aspetta che metto il flash se non si vede molto qua Ok ecco ora si vede meglio Abbiamo una gtx 1050 ti della gigabyte E' stata già overclockata Ora ve la faccio attimo vedere Ok qua abbiamo MSI afterburner Vedete qua Lo uso solo per vedere la temperatura Qua la temperatura della GPU mi arriva a 60 gradi Massimo 60 gradi Poi abbiamo la temperatura della CPU Qua si riscalda un po' di più Mi arriva a 65 gradi Ma altre volte mi arriva a 80 gradi Veramente Poi i vari core della CPU E poi andiamo a vedere Gigabyte qua Vediamo Ed ecco ci abbiamo questa Ora dobbiamo mettere qua E qua ci abbiamo tutto overclockato Piccio da 35 MHz 25% Memory clock più 1000 MHz Poi ci abbiamo pure avanzato qua Le impostazioni avanzate Qua non lo so perchè si è messo automatico Lo metto turbo Anche perchè è meglio Non lo so perchè Io lo metto sempre turbo Va bene Così si raffredda di più Ok ora per togliere Devo togliere qua E vediamo allora Altro Il Cosa qua E' smontato Vedete Non si riesce a vedere bene sotto Però va bene Ora mi scoccio Se ho tempo di smontarlo Qua Alcuni componenti Quando ho tempo Ve lo posso far vedere Però ora li mantengo nel computer Poi qua c'è la pentola per la cpu Che sta là dietro la cpu Poi c'è la scheda madre E tutto Qua c'abbiamo gli hard disk Che si vedono abbastanza bene L'hard disk del computer interno Volevo dire E niente Ora lo rimontiamo Ok è stato facile smontarlo E rimontarlo Questo coperchio Ok magari Quando c'ho tempo Smonti il computer Per far vedere in modo Più dettagliato Anche perché lo devo pulire Che è pieno di polvere Pure dentro Quindi che se deve pulire Allora c'è il tempo Per pulirlo Allora Per questo video è tutto Io ho fatto vedere I componenti del mio computer E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Allora Non dimenticate di mettere like E di iscrivervi al canale